Nessun incontro questa mattina a Palazzo Fibbioni per il salvataggio dell'Aquila Calcio. L'imprenditore romano Umberto Fioravanti ha fatto sapere all'assessore allo sport del comune Alessandro Piccinini che non avrebbe raggiunto l'Aquila. Fioravanti, che ha motivato la sua assenza negli ultimi giorni con problemi di lavoro all'estero, continua a ribadire che mancano alcuni documenti, su tutti il bilancio della società il 30 giugno. Documento che però ha chiarito il presidente Chiodi non può essere prodotto in questo periodo dell'anno, sebbene a nessuno sfugge che la tenuta contabile a fine mese sia obbligatoria per legge. Una trattativa lunghissima e destenuante che va avanti da febbraio e che, ad oggi, non ha prodotto nessun risultato tangibile, se non l'ira dei tifosi che, a questo punto, non sanno davvero a chi credere. Si adduce sempre la mancanza di documentazione, eppure Chiodi continua a dire di aver dato ai nuovi tutte le garanzie possibili riguardo l'accollo dei debiti delle passate stagioni. La nuova cordata, dall'altra parte, sostiene di non avere invece tutte le carte. Di fatto, l'unica certezza che c'è è che al momento non c'è la squadra. Non c'è la conferma di Battistini, non ci sono i tempi per poter aspettare ancora. Lo stesso Fioravanti ha evidenziato che, qualora oggi arrivasse tutta la documentazione, comunque lui e gli altri tre soci avrebbero bisogno almeno di una settimana per vagliare il tutto. Sindaco e Assessore sono intanto al lavoro, ma la credibilità qui si è persa da un pezzo.